Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Gemma ancora una volta è stata vittima di Tina Cipollari Nell'ultima registrazione di Uomini e Donne avvenuta ieri pomeriggio è accaduto di tutto. Ancora una volta, protagonista indiscussa della puntata è stata Gemma Galgani vittima di Tina Cipollari. Quest'ultima, infatti, senza vergogna le ha alzato la gonna davanti al pubblico mettendola in ridicolo. Inoltre, anche Paolo illuso nuovo corteggiatore non le ha dato buone speranze. Gemma entra in studio ed è subito lite con Tina. Grazie al portale Vicolo delle News possiamo rivelare in anteprima cosa è accaduto durante la puntata di ieri avvenuta verso le 6 del pomeriggio. La registrazione del parterre senior si è aperto con un video post-puntata dedicato a Gemma Galgani. La direttrice di teatro dopo essere stata scaricata da Rocco, ha voluto esprimere il suo stato d'animo venendo bloccata più volti da Tina Cipollari. Entrata in studio non è passato tempo che tra le due è subito partito un siparetto, l'opinionista, infatti, ha cercato di aggredirla alzandole addirittura la gonna davanti a tutto il pubblico presente. Il comportamento di Tina ovviamente ha fatto anche questa volta degenerare la situazione, tanto che Maria De Filippi è stata costretta ad intervenire. Gemma e Rocco si sono sentiti. Gemma Galgani durante il suo racconto ha spiegato che nei giorni precedenti ha sentito telefonicamente Rocco. La Piemontese, però, ha tenuto a precisare che da entrambe le parti nulla è cambiato ed il loro rapporto è rimasto uguale. Nonostante tutto, Fredella per chiederle scusa ha voluto lasciarle una rosa in segno di amicizia. Dopo aver accantonato, la questione, Maria De Filippi ha fatto entrare il suo nuovo corteggiatore Paolo, dandogli la parola. Gemma e Paolo si sono baciati. Tra Gemma e Paolo pare sia nata una vera e propria simpatia. Il cavaliere di circa dieci anni più giovane di lei sembra davvero interessato alla dama e lo avrebbe già dimostrato. Dopo aver trascorso una piacevole serata a cena tra i due è scattato già il primo bacio, lasciando il pubblico senza parole. Dal suo racconto, però, un dettaglio non è piaciuto alla Galgani ovvero che per lui non è ancora scattato un vero sentimento. Tale affermazione ha mandato subito in crisi la piemontese che senza esitare ha deciso di pensare bene a quanto sentito. Inoltre, protagonisti della puntata sono stati anche Sossio ed Ursula, che a quanto pare si sono visti a Napoli nonostante la Bernardo stesse frequentando Armando. .